Stiamo preparando la crema pasticcera per il tiramisù. Titti oggi ora, voglio dire, scusate, versa il latte all'interno della nostra pentola, quindi mezzo litro di latte. Titti, ora prendi la scorzetta di limone sul tavolo e inseriscila all'interno. Ora aspettiamo che arrivi ad ebollizione. 5 tuorli, 130 grammi di zucchero e iniziamo a montare il tutto con la nostra frusta. Queste sono le mani della mia piccola Titti, piccola per modo di dire, ha 12 anni, quasi 13. Saluta Titti, ti vergogna. Mescola bene con energia. Mettiamo anche 30 grammi di amido o di farina bianca. Io metterò la farina bianca. Ora mettiamo il latte all'interno. Lo versiamo dividendolo in tre volte. Ora la mia mamma mette il composto nella pentola per farlo rassodare. Mescoliamo bene bene. La nostra crema è quasi pronta. La facciamo raffreddare in dieci minuti. Dopodiché metteremo il mascarpone. Ora stiamo versando il mascarpone. Titti, riesci? Che provolona che sei. Oh, la la. Vai! Dai, inizia a mescolare. Inizia a mescolare quello, su. L'aiuto un attimo, ragazze. Scusate. Non so cosa ne verrà fuori, ma noi ce la stiamo mettendo tutta. Rimaniamo a casa e spezziamo il tempo facendo qualcosa insieme ai nostri cuccioli. E voi cosa fate di bello? Mettiamo un primo strato di crema sul fondo della nostra pirofila. Spennelliamo e bagniamo i savoiardi. Un veloce passaggio. Disponete l'infila nella vostra pirofila. Dopodiché ripassate un'altra dose di crema. Stendi la crema con la paletta, delicatamente. Aggiungine ancora un po'. Brava la mia Titti. Bravissima. Abbiamo finito di assemblare i nostri tiramisù. Ora Titti spolverizza con il cacao amaro. Dolcemente Titti, fallo bene 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 bene. Non lasciare nessuna parte bianca. E' la prima volta che Titti fa il tiramisù. Ma direi che è stata proprio brava. Poi la mamma passerà a pulire. Non vi preoccupate. Ora mettiamo i nostri tiramisù in frigo per un paio d'ore. Ci vediamo più tardi per il risultato finale. A tra poco. Ecco a voi il nostro tiramisù. Pronto per essere mangiato. Servito freddo, vi raccomando. Questo è il tiramisù di Titti. La mia pasticcera Titti si è resa conto che doveva inzuppare un po' di più i savoiardi. Ma è very, very good. Davvero molto buono. Com'è Titti? Buono. Vai, dai, fai la prova. Com'è? Aspetta, fai vedere il tuo pollice. Giù, 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 giù. Saluta. Di ciao a tutti. Non ti sto riprendendo. Ciao. Ciao. Se la nostra ricetta vi è piaciuta, lasciate un like. Ciao e alla prossima. Ciao, è vero. Sì, fa il biscottino. Ciao. 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 Ciao.